Un bulldozer esplosivo Non posso rinunciare Al fiste servono gli antibiotici Sentito che rumore la sua testa quando il gigante l'ha colpito? Come un insetto contro un parabrezza Splat E tutto per una stupida battuta sul suo costume Che storia Quel tipo dei problemi Grossi Ho sentito Potrei scavalcare quel muro Quelli nella tenda sono medicinali Forse è fatta Hai visto quando è passato di qui? Quel tipo è un animale Sfruttare al meglio Questa seconda possibilità Voi due, venite qui Ok, ok, arriviamo Cos'era? Siamo a risolverla velocemente Devi solo dirci luoghi e date dei vostri... Altre scorte Ma devo aggirare quegli uomini Non ho queste informazioni... Wow! Altre scorte Ma devo aggirare quegli uomini Possiamo risolverla velocemente Ho bisogno di un buon attacco Non ho queste informazioni... Non voglio lasciarvi il battuto Perché i supercriminali hanno preso di mire i centri accoglienti? Riguarda Osborn Vogliono dimostrare che non so proteggere la città Che ratta di esibitamente Il tanto che ci lasciano tenere il bottino Non mi importa Esatto Questa roba va raffreddata Wow! Altre scorte Ma devo aggirare quegli uomini Possiamo risolverla velocemente Devi solo dirci luoghi e date dei vostri rifornimenti Non ho queste informazioni Credimi Non voglio lasciarvi il battuto Mi dai il volto a stomaco Scuta fuori i dettagli e sarà finita Perché i supercriminali hanno preso di mire i centri accoglienti? Riguarda Osborn Vogliono dimostrare che non so proteggere la città Che razza di esibitamente Ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino Non mi importa Esatto Questa roba parla cifra niente male sul mercato Dai scaviamo pure Sebole hanno detto dove sono i depositi Sì a quanto pare Ora il bestione si sta occupando delle stazioni È un urbigno atomico volante È per via del sangue russo Ha la follia nelle vene C'è tre valanti Mia nonna è russa Bua nonna Quindi sei russo anche tu, no? Che? Senti, lasciamo stare la mia famiglia, ok? Niente Un'altra tenda Incrociamo un paio di kit medici Ma niente antibiotici Devono esserci Stanno per dividersi le scorte Devo evitare il cecchino Altre scorte Avanti, cassa, non deludermi Amoxicillina Perfetto Che rezza di armadio Quello deve essere il bulldozer Il programma dei ritornimenti Ora Gli ascazani Signori Chiedo venia Il mio partner è Sgraziato Non comprende le sottigliezze Dell'arte persuasoria Sì! Basta! Oh! Ne avrei fatto a meno Cos'è? Controlla Vai Non credo mi abbia visto Devo darmela a gambe Chiunque tu si esci fuori Ho tempo da perdere Quai tunnel Ti divertono ai giochi di luce? Io mi divertirò con la tua faccia Vieni fuori E prometto di non schiacciarti Ti prego non vedermi Ti prego non vedermi Non credo mi abbia visto Devo darmela a gambe Chiunque tu si esci fuori Ho tempo da perdere Quale tunnel? Ti divertono ai giochi di luce? Io mi divertirò con la tua faccia Vieni fuori E prometto di non schiacciarti Ti prego non vedermi Ti prego non vedermi Ti prego non vedermi Ti prego non vedermi Ti prego non vedere Ti prego non vedermi Ti prego non vedermi E% Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è altra via. Devo superarlo. Aspetta... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni fuori... Subito! Vai. Ti vedo! Grazie a tutti. Non c'è altra via. Devo superarlo. Non c'è altra via. Non c'è altra via. Non c'è altra via. Non c'è altra via. Vai. Oh cavolo! Oh cavolo! Oh cavolo! Devo trovare un'uscita. Basta nasconderci! Se riuscissi a salire... Quando ti troverò... Ti schiaccerò! E lì... Quel container... È la mia via d'uscita. Vuoi sconcermi? Devo fare in modo che liberi l'uscita. Vieni fuori ora! Via, via! Via, via! E come nascondino! Io odio nascondino! Ora non mi resta che avvisare Mei. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo ha pegato. Ok. Fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. Wow! Sei in coda? Ah, sta bene così. Sei in coda? Devo migliorare il mio repertorio. Miles! Ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Ehi, sì, beh... Non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del fist. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarà il primo a saperlo. Ottimo. Grazie, Miles. Yuri, ho capito il piano di Rhino. Attaccare i centri accoglienza o scorpa. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Darle, ma arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui. Vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro. Andrà tutto come deve. Abbi fede. Allora, marci. Tippico di lui. Annette. Allora, marci. Si, la buona parte! Lavorra!